Ottime notizie sul fronte della sicurezza delle scuole superiori del territorio piceno. L'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno risulta infatti assegnataria di un contributo di ben 126.000 euro erogato con decreto dal Ministero dell'Istruzione nell'ambito della partecipazione al bando La Buona Scuola che mette a disposizione 40 milioni di euro per effettuare indagini diagnostiche sui solai di 7.000 edifici scolastici di ogni ordine e grado di tutta Italia. La nostra provincia è stata tra gli enti locali più meritevoli a livello nazionale, dichiara il Presidente Paolo D'Erasmo ottenendo grazie all'impegno dei tecnici del Servizio Patrimonio e dell'edilizia scolastica dell'ente che ringrazio consistenti fondi previsti dal bando ministeriale nell'ambito di un monitoraggio mai realizzato prima. Tale attività ministeriale punta ad avere una radiografia a livello nazionale e locale delle condizioni dei solai per prevenire i rischi di crollo e di garantire al meglio la sicurezza dei ragazzi e di tutto il personale scolastico. Rendere le scuole sempre più funzionali, sicure ed innovative, prosegue il Presidente, è un obiettivo che questa amministrazione si è posta fin dall'inizio del mandato cercando di intercettare con determinazione e tempestività per questa importante finalità tutti i possibili finanziamenti comunitari, nazionali e regionali oltre naturalmente ad impiegare per quanto possibile risorse del proprio bilancio. Ricordo inoltre, conclude il Presidente, che la nostra provincia ha ottenuto sempre dal Ministero dell'Istruzione un finanziamento di 3 milioni di euro per la realizzazione di una nuova scuola ad alto efficientamento energetico e standard innovativi e che a breve saremmo una delle poche province d'Italia ad avere ottenuto il certificato di prevenzione incendi per tutti gli istituti superiori di competenza. Gli edifici dove verranno effettuati i monitoraggi per un costo di 9.000 euro di intervento sono 13. i dati e i risultati delle indagini che verranno effettuate andranno ad aggiornare l'anagrafe dell'edilizia scolastica.